Dopo migliaia di euro spesi dalla provincia di Gorizia per la ristrutturazione del ponte Cucchini fra Fiumicello e Fossalon di Grado, risultata inadeguata visto che non è percorribile per mezzi superiori alle 15 tonnellate, ora la regione ha annunciato che spenderà un milione di euro per un nuovo intervento. Quali sono le migliorie previste da questa ulteriore ristrutturazione? La Giunta non ritiene che nell'opera costruita dalla provincia di Gorizia, inaugurata meno di un anno fa, vi sia stata quantomeno un'incredibile e censurabile leggerezza nell'uso di denaro pubblico. Apporre questi quesiti è il vice cacobruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Rodolfo Ziberna, che sul tema ha presentato un'interrogazione alla Giunta. La realizzazione del ponte Cucchini e rileva Ziberna si è resa necessaria per mettere in sicurezza la struttura. Il piccolo ponte era molto utilizzato anche dagli agricoltori, ma considerata la dimensione ed il peso dei mezzi agricoli, la provincia ne aveva stabilito il divieto di passaggio a fronte di lunghe deviazioni. Utilizzandole però i mezzi pesanti causavano il rallentamento del traffico lungo la regione della strada verso la città di Grado e le sue spiagge. Dopo la ristrutturazione con fondi provinciali, recente la notizia di un intervento regionale, da qui l'interrogazione di Ziberna che chiede quali saranno le migliorie, ma anche se la Giunta ha intenzione di convocare una riunione aperta ai cittadini per spiegare le ragioni degli errori che porteranno alla quasi certa distruzione di un ponte inaugurato appena marzo 2016.